Finalmente i Comuni iniziano a promuovere direttamente con i propri uffici la cultura della donazione degli organi. Il progetto dell'ASIT, la donazione organi come tratto identitario, prevede che al momento del rinnovo o del rilascio della carta di identità il cittadino possa dichiarare la propria volontà o meno a donare gli organi e i tessuti, dato che sarà inserito direttamente nel sistema informativo trapianti. Questa era un'iniziativa già partita nel 2010 nel decreto mille proroghe, il governo aveva dato la possibilità ai sindaci di veicolare questo messaggio della donazione degli organi attraverso gli uffici anagrafe. Diciamo che è rimasta un po' disattesa questa norma, è stata riproposta dal nuovo decreto fare di questo governo e alcuni sindaci molto sensibili hanno aderito a questa iniziativa. I primi ad aderire all'iniziativa dell'Associazione Sud Italia Trapianti, i comuni di Cassano Loionio e di Colosimi in provincia di Cosenza. Abbiamo ritenuto opportuno rafforzare questa iniziativa cercando anche di veicolarla anche nei comuni del comprensorio che credo che sia un gesto nobile perché rappresenta le istituzioni, è uno dei gesti più alti che un'amministrazione possa fare e Colosimo va fatto in maniera doverosa approvando appunto quest'atto deliberativo che consentirà ai cittadini nel momento in cui andranno a richiedere il documento di identità di fare l'apposita dichiarazione che verrà inserito poi nel sistema informativo dei trapianti.